La tricesta Olus e la sua presidente Carla Panzino hanno scelto di sostenere l'iniziativa promossa dalla fondazione AIMO, Associazione Italiana Oncologia Medica, con il presidente, il dottor Giordano Beretta, nuovo direttore del reparto di oncologia dell'ospedale di Pescara, organizzando con i propri volontari e altre associazioni la prima camminata non competitiva Io non sono il mio tumore, che si terrà sabato 3 settembre a Piazza Salotto, con un percorso di 2,5 km tra il lungomare e il centro città. L'associazione è aderito con entusiasmo all'iniziativa, chiedendo il sostegno della Misericordia Pescara e della FederCentri, manifestazione che è il patrocinio del Comune di Pescara. Cammina con noi per il diritto all'obbrio oncologico la presentazione alla direzione generale con i vertici dell'ASL. La presidente dell'associazione Adricesta Olus, Carla Panzino, ci spiega i motivi di questa importante iniziativa. È importante perché dobbiamo tutelare i diritti di tutte le persone che ci sono. È impensabile che delle persone, nonostante abbiano superato la tragedia di una malattia, il dolore con la famiglia anche, di un problema. Io penso soprattutto ai ragazzini che sono guariti e che si trovano comunque a 25, 30 anni, 40 anni, che se devono iniziare un'attività o devono chiedere un mutuo, hanno delle problematiche. Ed è inammissibile che venga etichettata una persona. In nessun modo le persone vanno etichettate, soprattutto gli ex malati. Quindi l'obbrio oncologico vuole mirare a questo, raccogliere tante firme, almeno 100.000, siamo a quota 75.000 firme, per poter portare poi al presidente del Consiglio e al presidente della Repubblica una richiesta fattiva e importante per attivare questa legge, che già è stata promessa tante volte e non è stata fatta. In tanti altri paesi europei esiste questa legge ed è giusto che l'Italia non sia sempre l'ultima ruota del carro in Europa. Quindi noi ci siamo, come a Riccesta, immediatamente messi a disposizione delle realtà locali per questa iniziativa della camminata. Quindi per favore venite tutti, tutti, tutti a fare questa camminata di solidarietà. Quando si dice il medico deve essere bravo ma anche umano, oppure attraverso iniziative come queste? Io credo che questa sia un'iniziativa importante. Avere una legge che parifica i diritti delle persone è una legge fondamentale ed è una legge che è a costo zero per la finanza pubblica, è una legge che può garantire a quasi un milione di persone di avere gli stessi diritti di chi il cancro non l'ha mai avuto. Dove è possibile firmare? Ci troviamo sabato alle ore 9, sabato 3 settembre alle ore 9 in Piazza Salotto e lì ci saranno dei tablet dove è possibile firmare. Ma si può già firmare online a www.dirittoallobliotumori.org dove assolutamente basta cliccare e firmare. Grazie.